Qui con noi, noi ci vediamo la prossima settimana, vi racconteremo ancora storie di per sempre con i nostri fidanzati, con le nostre coppie, mercoledì prossimo! Bravi, bravissimi! Ripasso la tabellina di un due, quanto fa due per sempre? Non fa dieci, non fa cento, non fa un milione, fa io e te! Ripasso la tabellina di un due, quanto fa due per sempre?